Per il settimo anno consecutivo gli studenti del Torelli beneficiano del supporto scientifico del Museo del Bali, potenziando sia lo studio della fisica a scuola che l'attività in laboratorio. L'accordo è stato sottoscritto dal dirigente scolastico Samuele Giombi e dal presidente della Fondazione Museo Alighiero Omiccioli. La collaborazione prevede l'allestimento e la realizzazione con personale e strumenti di diverse esperienze che andranno ad integrare quelle svolte dai docenti scolastici. Il museo porta qui da noi attrezzatura e animatori ed esegue esperienze con le nostre classi. Quante lezioni di questo tipo sono in programma e a quali classi sono rivolte? Sono rivolte a tutte le classi del nostro liceo e sono in programma due esperienze per ogni classe nel corso del primo e del secondo periodo scolastico. Noi abbiamo l'anno scolastico diviso in trimestre e pentamestre, quindi è un'attività che parte proprio in questi giorni e si protrarrà fino al mese di febbraio. La fisica è una disciplina fondamentale per lo sviluppo delle scienze, della tecnologia e dell'intera società e con questa iniziativa il liceo Torelli ne ribadisce tutta la sua importanza permettendo ai propri allievi di migliorare e consolidare le loro conoscenze. Il vostro museo sempre di più si mette a disposizione degli studenti? Sì, assolutamente. Il nostro museo che sia internamente, in questo caso esternamente, attraverso i regimi di convenzione, si mette in piena collaborazione e proposte nei confronti del mondo scolastico e anche quest'anno appunto siamo qua per il sesto, settimo anno a rinnovare questa convenzione con il Torelli. Questo è stato il primo liceo della provincia che è aderito subito alla nostra proposta, quindi noi ne siamo assolutamente fieri e grati. Comunque dire, la proposta è buona perché poi negli anni se si rinnova e si mantiene vuol dire che comunque tutto quello che in qualche modo di didattica viene proposto viene scelto appunto dai professori. La cosa che ci inorgoglisce particolarmente è che comunque sia in ambito provinciale ma anche extra provinciale, quest'anno anche extra regionale, andremo appunto a proporre queste convenzioni. L'anno scorso siamo arrivati ad un liceo di Bologna, quest'anno c'è il liceo di Ravenna che ci ha proposto appunto questa collaborazione attraverso i regimi delle convenzioni, per cui io sono estremamente orgoglioso di tutto quello che si fa e che proponiamo poi all'esterno.